bentornati alle colonne d'ercole allora oggi parliamo di due film che secondo me sono accumunati da alcuni aspetti faccio un disclaimer importante perché questa è una rubrica un format preferite chiamatelo come più vi piace che è dedicato in particolare alle colonne sonore o alla musica applicata in generale invece in questa puntata parleremo di questi due film ma facendo solo un minimo accenno alla colonna sonora perché non è il punto focale di questo video allora ieri sera ho visto Lamborghini il film che trovate su Amazon Prime e alla fine della visione mi è venuto immediato fare un parallelo con House of Gucci che invece avevo visto l'anno scorso allora chiariamo innanzitutto che Lamborghini l'ho visto l'altra sera con altre persone in italiano mentre House of Gucci l'avevo visto in lingua originale e questa non è comunque una differenza da poco perché molte cose nel nel doppiaggio nella traduzione si possono perdere certi sensi anche semantici della parola si possono possono andare perduti ma insomma comunque ve lo dico per chiarezza e per completezza di informazione allora quando io vedo un film e il film non mi piace non ho mai la pretesa di cominciare a spalare tonnellate di escrementi su questo film tantomeno di farlo in pubblico perché sono un uomo nel dubbio e mi dico ma magari non l'ho capito io mi sono l'annetto proprio di cose clamorose i film che sono delle boiate le boiate terribili molte volte vedi un film mi è scelto un po così forse dovrei rivederlo per capire meglio alcuni passaggi o per apprezzare o per capire alcune cose dopodiché però dici ma non mi ha fatto granché impazzire la prima volta che perdo altre due ore per riguardarlo se devo utilizzare due ore per vedere un film voglio vedere qualcosa che per rivedere un film qualcosa che la prima volta mi sia piaciuto evidentemente quindi comunque essendo io un uomo nel dubbio mi pongo in discussioni magari non so non l'ho capito non ho saputo cogliere certi aspetti quindi dopo aver visto l'altra sera Lamborghini e appunto non averlo praticamente apprezzato ho fatto un po un giro un po un giro su google e ho visto ma che le mie impressioni non è proprio che siano così solitare anzi devo dire che le recensioni che ho letto praticamente tutte sono decisamente più sul negativo che sul positivo non ho letto una recensione che dicesse accidenti che bel film guardatevelo che veramente val la pena e quando come dire tutti non si può mai accontentarli questo lo so benissimo facendo questo lavoro da tanti anni chi non può mai accontentare il 100% di quelli che ti viene a vedere o ad ascoltare quello che è e quando però il 100% non l'è accontentato è forse Houston abbiamo un problema sono state fatte tante critiche a questo film a Lamborghini in particolare cioè il fatto di avere una visione stereotipata e anche molto patinata di un certo ambiente rurale italiano il dopoguerra il fatto di avere una visione molto USA il fatto di spingere su questa cosa del self made man che agli americani piace tanto tralasciando invece alcuni aspetti molto importanti della sua vita personale e privata insomma però alla fin fine al netto di questo non dimentichiamoci che un film è un film non è un documentario quindi non dobbiamo pretendere pretendere che un film trasporti in maniera fedele quello che è successo dal punto di vista storico sullo schermo non è quella la funzione del film ci sono i saggi ci sono i documentari ci sono le ricerche ci sono tante cose se uno vuole approfondire la ricerca storica di un determinato evento o di un determinato personaggio però sta di fatto che non dobbiamo dimenticare che quello che noi traiamo da un film spesso e volentieri diventa verità storica cioè e questo è dire che sia una semplificazione ed è veramente illutivo cioè io se guardo un film su Napoleone non è che poi so o conosco la storia di Napoleone solo perché nel film magari qualche evento della storia di Napoleone è stato trattato e ovviamente in maniera anche molto romanzata però poi il fatto che ho visto quel film tranquillizzerà un po' le mie carenze storiche e dirò ma sì da più o meno so com'è andata ho visto il gladiatore ah ecco so come si comportava l'imperatore nell'antica Roma insomma ecco questo è un passaggio molto importante per cui vero è che un film non è un documentario ma vero è anche che nella percezione sociale quando poi hai visto un film spacci per verità soprattutto di fronte agli amici a una cena al quarto bicchier di vino spacci per verità storiche delle cose che sono assolutamente di fantasia che va benissimo che ci siano all'interno di un film perché appunto è un racconto di fantasia ancorché basato non si dice tratto da una storia vera non è fedele riproduzione storico psicologico scientifico della storia vera però insomma gli americani che non hanno inventato il cinematografo ma hanno inventato il cinema hanno spesso la tendenza a sottovalutare clamorosamente certi aspetti e devo dire che questo è un po' il film rouge non particolarmente soddisfacente che accomuna questi due film poi non so dico io parlo degli americani perché come ho detto prima non hanno inventato il cinematografo ma hanno inventato il cinema non so se noi italiani facessimo una film su qualcosa di successo in Polonia se poi saremmo così attenti alla ricostruzione storica però sta di fatto probabilmente no forse no insomma ecco però sta di fatto che quando hai una grossa produzione che mette tanti soldi in un progetto è accidenti lì vogliamo dare 200 euro a un consulente a un editor che vi dica no guardate questa cosa qui non sta veramente in piedi non è credibile perché il problema qual è? il problema è che noi guardando un film utilizziamo quella che si chiama la sospensione dell'incredulità cioè quello che ci fa credere che Harry Potter muovendo la bacchetta faccia delle cose che fisicamente non sono vere ma la sospensione dell'incredulità la utilizziamo anche a un livello molto più basico quando accettiamo il fatto che che stiamo vedendo un attore che interpreta un ruolo e vediamo in lui non l'attore ma il personaggio che sta interpretando e magari ci commuoviamo ridiamo con lui o piangiamo con lui o ci spaventiamo con lui o soffriamo con lui insomma ecco se succede questa cosa qui vuol dire che abbiamo accettato il fatto che quelli che vediamo davanti non è Leonardo Di Caprio ma il personaggio che Di Caprio sta interpretando e quindi empatizziamo con lui se lo facciamo il regista, gli attori, gli sceneggiatori e tutta e tutti quelli che sono tutte le centinaia di persone che sono dietro un film hanno fatto bene il loro lavoro se questa cosa non succede allora è chiaro che il film vuol dire che non è andato particolarmente bene quali cose del film non mi sono piaciute in particolare quel guardare la società italiana in maniera veramente storicamente falsa o non credibile sono tanti casi ve li dico in ordine sparso quelli che mi sono venuti in mente il fatto che fuori dalla Ferrari e Maranello ci fossero scritte in inglese perché doveva essere ovviamente ad uso degli spettatori americani insomma ma vi rendete conto insomma che è una cosa che non sta è una cosa che non sta né in cione in terra oppure il fatto che questi ragazzi che venivano dalla campagna cantassero con disinvoltura canzoni americane nel dopoguerra veramente non non sta veramente in piedi e poi piccole cose non so banalmente questi qua sono lì devono brindare per un modello nuovo di macchina e hanno il caffè e brindano quel caffè cioè voi le sapete bene indipendentemente dal fatto di essere particolarmente amici dell'alcol o meno nessuno ne brinderebbe mai con un caffè allora qual è il problema uno potrebbe dirmi no vabbè ti stai attaccando alla fin fine a piccole cose sì mi sto attaccando a piccole cose ma per due ragioni innanzitutto perché quelle grandi le hanno già trattate le altre recensioni e quindi se volete vedere le critiche alla regia agli attori alla fotografia eccetera eccetera andatevele a cercare e ne parleranno in maniera sicuramente più giusta e più pertinente di come posso fare io cioè in particolare leggevo questa ve la leggo perché me la sono proprio ritratta da una di queste recensioni che diceva quattro scemenze trite e ritrite sulle nostre campagne accenti del sud in Emilia abiti da mafiosetti donne vuote senza personalità che servono piatti americani ecco insomma l'ho letta perché insomma è un po' veramente il paradigma di quello di quello che è questo film allora ma perché vi dicevo della tazzina di caffè perché vi dicevo la sospensione dell'incredulità eccetera eccetera perché noi quando vediamo un film la sospensione dell'incredulità funziona non solo se gli attori sono bravi se 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 ma se tutto quello che succede è credibile vi faccio un esempio un tempo fa era il messaggio di un film vediamo che c'è questa scena ambientata nei boschi d'inverno gli uccelli che insomma a un certo punto noi questa scena ragazzi non funziona questa scena non funziona ma che cosa c'ha ma cosa non c'ha non capivamo non c'era una ragione per cui quella scena non ci cominciasse eppure nessuno di nuovo era convinto della scena dopodiché uno si accorge ho capito qual è il problema questi uccelli che stiamo sentendo sono delle rondini e li attendo in inverno non possono essere delle rondini dobbiamo togliere questi canti di rondini e mettere dei canti di uccelli invernali sostituita questa cosa a quell'identica scena identica stessa fotografia stessa inquadratura stessa montaggio stessa tutto funzionava e noi molte volte non ci rendiamo conto di questa cosa quando un film non ci piace non sempre siamo capaci di dire eh ma lì in quel punto lì al minuto 37-18 secondi c'è stato quell'inquadro non sempre siamo capaci molte volte per un film però non ci convince diciamo non so non mi ha convinto e perché non ci ha convinto perché il film è pieno comunque ci sono diverse di queste cose di queste cose che non ci convincono perché non le troviamo reali non le troviamo realistiche in certi casi e quindi questo atteggiamento che c'è anche in House of Gucci dove io l'ho visto in originale quindi ci sono alcune parti in italiano mi ricordo lei Lady Gaga al al bar arriva a cameriere lei dà il caffè e lei gli dice grazie signore voi lo sapete non direste mai a un cameriere che vi porta il caffè grazie signore direste grazie direste mille altre cose ma non grazie signore non è italiano non funziona è una cosa che mi fa precipitare la credibilità nel momento in cui lei mi dice questa cosa io non vedo più il presagio di questa credibilità non la vedo Lady Gaga tra l'altro è anche brava devo dire a recitare questa parte oppure sempre per questa cialtroneria un po' diffusa che c'è quando tutte le cose che non riguardano il mondo anglosassone in certi in certi punti invece di grazie dicono grazie assi in spagnolo cioè veramente la cialtroneria ai massimi livelli non vi parlo del personaggio di Paolo Gucci che viene trattato in una maniera macchiettistica che neanche nel vizietto si vedeva un personaggio così ridicolo e così macchiettistico d'altronde però al di fuori il mondo americano sono ancora tutti convinti che noi italiani non facciamo altro che questo gesto tutto il giorno diciamo ciao Mario che ore sono? ah Luigi sono le 7 e un quarto cioè loro sono convinti che noi tutto il giorno passiamo la giornata a fare questo gesto e che poi parliamo così sentite quando qualcuno qualche qualcuno parla in italiano o vero maccheronico eh sì perché questa io la mamma ne pizza io non credo di parlare così francamente sono sicuro neanche voi però questa cosa non la trovo offensiva cioè non sono di quelle che si offendono perché posso trovare discriminatoria o razzistica o quello che è la trovo peggio che razzistica o razzista perdonate la trovo superficiale perché ripeto basta un minimo di attenzione e dare qualche centinaia di euro a un consulente che ti dica guarda che questa cosa qui non funziona non la fate fa schifo cioè al di là di quando c'è il famoso film vi ricordate il Colossal l'ambientata in antica Roma col tipo che aveva sull'orologio da polso insomma quali sono dei bloopers e vabbè insomma succedono nelle migliori famiglie ma è proprio un discorso di approccio quindi io non lo trovo affatto offensivo anzi io seguo tantissimi comici inglesi americani australiani seguo molto Jim Carr John Oliver Ricky Gervais Jim Jeffries Trevor Noah e tantissimi altri insomma come dire e se uno fa una battuta contro gli italiani o sulla mafia o sulla pizza o il mandolino non ci rimango male non mi offende insomma nel momento in cui è una cosa che viene fatta nei confronti di tutti mi può anche star bene insomma però bisogna stare attenti che la comicità è una cosa e tra l'altro piccola parentesi quelli che dicono lo humor britannico come dire in realtà tra di noi una cosa che non fa ridere non conoscono affatto l'humor britannico l'humor britannico è feroce è tagliente spesso è politicamente scorretto per cui tutto quello che posso accettare senza nessun tipo di problema da parte di uno stand up comedian non lo accetto da parte di chi rappresenta uno spaccato di vita reale ripeto non pretendo il documentario non lo è e non è giusto richiedere a un film che la verità storica ma almeno la realtà storica sì quella la pretendo altrimenti diventa la fiera del luogo comune e la saga la pressa pochismo in tutto ciò ci sono stati dei problemi su Lamborghini io credo riferibili più al doppiaggio che non all'originale magari poi dovrei anche andarmelo a rivedere in originale se proprio un giorno due ore dice mamma cosa faccio adesso non so esattamente come impiegare le prossime due ore cioè a un certo punto parlano della topolino 500 cc quindi 500 cm cubici e dicono che la possono e la vogliono portare a 650 che 6 cc mi sta bene ma poi dico parlo di 650 cavalli allora se io non sono un ingegnere meccanico ma credo che mettere 650 cavalli su una topolino 500 degli anni che furono degli anni 40 credo che non sia meccanicamente possibile o così come un altro punto dove poi parlo del trattore che ha 1500 cavalli un trattore degli anni 40 io non credo che potesse avere 1500 cavalli poi magari se c'è qualche ingegnere meccanico tra di voi mi scrive nei commenti se sto dicendo una sciocchezza insomma però però credo che questa cosa sia un problema derivata più dal doppiaggio però quando anche il doppiaggio arte in cui noi italiani siamo veramente maestri si porta dietro come dire queste queste pecche questi vulnus e forse vuol dire che tutta la baracca tutto il progetto è stato fatto è stato fatto con un po' di approssimazione e io tutto posso accettare in un film soprattutto su film che è costato soldi tranne l'approssimazione questo scarso interesse questo scarso questa scarsa attenzione questo scarso rispetto questo scarso amore nei confronti di quello che stai facendo perché io ho visto registi passare giorni e giorni a studiare un determinato aspetto di una singola inquadratura per essere sicuri di farlo nella maniera giusta ripeto non storicamente giusta ma realisticamente giusta prima di chiudere due parole due sulla colonna sonora diciamole allora la colonna sonora di House of Gucci è scritta Harry Grabson Williams tra l'altro non esattamente l'ultimo l'ultimo arrivato e se vi dicessi che dopo un anno che l'ho ascoltata me la ricordo vi mentirei ma anche dopo averla sul film l'avevo trovata abbastanza in colore francamente non ricordo momenti di particolare di particolare rilevanza Thomas Cantelinen invece ha scritto la colonna sonora di Lamborghini facendo un lavoro senza infame senza lode sicuramente adatto a quel mondo che si vuole che si vuole rappresentare e alla maniera in cui lo si è voluto rappresentare un buon lavoro che però non credo che resterà negli annali francamente per cui concludendo è legittimo aspettarsi da una grossa produzione perché se è una produzione piccola per amor del cielo mi rendo conto che abbia altre cose per la testa ma da una grossa produzione attenzione quando si fanno soprattutto storie riferite ai personaggi non americani lo possiamo chiedere perché altrimenti continuiamo a trovarci all'elefante che si muove nel negozio di cristalleria e che fa poi il macello anche in buona fede insomma però come dire questa questa sorta di prevalenza culturale dove l'aggettivo culturale ha la c minuscolo degli Stati Uniti negli ultimi 70 anni che riguarda perché dico culturale quella c minuscolo sicuramente più legata al costume che non alla cultura quella c maiuscola io credo che se vogliono conservare questa prevalenza debbano porre più attenzione a rappresentare realtà che non appartengono loro altrimenti continueremo a vedere lo stereotipo del messicano col sombrero e dello spagnolo che fa olé ogni 5 minuti e dell'italiano che fa così insomma se avete visto i film di cui abbiamo parlato oggi scrivetemi nei commenti la vostra opinione se invece non l'avete visti guardate qualcos'altro alla prossima grazie a tutti